sta lontano da quella il film che ha battuto ogni record ti sta facendo impazzire nick hai sconferato mi sono 31 ferite fatte con cosa un punteruolo da ghiaccio la signora catering trammer per favore è un indiziata volevo scrivere un libro sull'omicidio di una stella del rock lo sai come uccide il fidanzato con un punteruolo da ghiaccio voleva che il libro fosse il suo alibi l'ho rimarchiato e ci sono andata a letto non provava niente per lui ci è andata solo a letto per il libro all'inizio sì poi mi è piaciuto come lo faceva le piace giocare vero è divertente non avete prove concrete sta mentendo di che parla il suo nuovo libro di un detective che si innamora della donna sbagliata e come finisce lei lo uccide sta lontano da quella tu hai perso la testa corre saprai solo quello che vorrò farti sapere sapeva che avrei detto che era stata lei e che non mi avrebbero creduto ti sta facendo impazzire nick lei sa cose che io ho detto solo a te cosa si prova a uccidere qualcuno dimmelo tu nick è andato troppo vicino al fuoco mi è piaciuto hai sconfinato è una grande seduttrice erano gli affari interni vero lei usa la gente fermi il gioco è finito nick ho chiuso basic instinct primo istinto scandalizzare il mondo grazie a tutti grazie a tutti